La musica l'ho scoperta da quando ero bambino, perché, per esempio, dove sono nato io, dalla mattina alla sera c'è la radio accesa e si ascolta la musica. Santo Domingo, da quando si sveglia, accende la radio e c'è la musica. Da bambino aveva un po' di nozione della musica, però farla suonare da solo è una cosa, suonare in un gruppo è diverso perché ti deve adeguare agli altri, ai suoni, al tempo. In più qua, nove mesi fa, diciamo, ho iniziato con la chitarra perché c'era questo spazio e avevo sentito che c'era pure la chitarra a disposizione. Ho fatto domandine, come si fanno qua, si chiamano domandine, per essere autorizzato a suonare la chitarra e ho iniziato a imparare un po' di accordi e sto andando bene, anche da didattico. Poi ho sentito che c'era pure il gruppo mesi fa, ho fatto ancora domandine, mi hanno inserito e sono qua a fare un po' di tutto, timbale, un po' di saxo, l'ukulele, la chitarra, insieme. Mi piace la musica, mi corre nel sangue. Io ascolto un po' di tutto perché musica, non ho preferenza, mi piace accogliere un po' di tutte le diversità, le genere, ascolto perché così la tua mente cresce di più. Per me io ho definito la musica un battito, un suono, un silenzio, la fusione perfetta per farti viaggiare e stando fermo.